Franco Rasetti era uno dei ragazzi di Via Panisperna, un collaboratore di Enrico Fermi. Nel 1946, viste l'utilizzo dell'energia nucleare all'epoca, cioè le bombe atomiche, che decise di darsi all'entomologia, al naturalismo. E non a caso, mentre Enrico Fermi morì nel 1954 a soli 53 anni, Franco Rasetti è morto nel 2002 a 103 anni. Allora, forse non sarò altrettanto bravo e importante come nessuno di questi che ho citato, ma magari potrebbe essere l'ultima volta che mi sentite parlare di queste cose, perché ne sono, a dire il vero, in alcuni casi abbastanza nauseato. Tuttavia, andiamo avanti e parliamo un po' di quello che è successo circa un mesetto fa ormai in Giappone. Io non ho preparato presentazioni, vi voglio guidare con me in un piccolo giro su internet, in modo tale che se noi fossimo appunto in una sala universitaria o in un ufficio e avessimo appena sentito che è successo questo incidente in Giappone, diceva, vabbè, andiamo su internet, andiamo un po' a vedere se riusciamo a trovare qualche informazione su cosa è capitato. Ecco, un primo sito, un primo posto dove è consigliabile andare a dare un'occhiata è quello dell'Agenzia Atomeca Internazionale che vedete qui elencato. La IAEA, l'Agenzia Atomeca Internazionale, è per statuto quella che sorveglia sull'andamento dei 440 impianti nucleari attualmente in funzione, sulla costruzione per alcune parti delle varie decine che sono appunto in costruzione e sul, diciamo, buon esercizio dell'energia atomica nel mondo. Dal primo giorno l'IAEA ha messo questo blog in cui cliccando si hanno dei dati su quello che sta capitando di giorno in giorno, come vedete si risale appunto fino all'11 marzo e ai giorni in cui avvenne l'incidente. Ma ovviamente, visto che noi siamo dei veri scienziati, non andiamo a guardare quello che è successo all'IAEA, ma andiamo sulla vera fonte di tutte le conoscenze, che è Wikipedia. No? Quindi, no, ovviamente quello che c'è scritto io continuamente durante la mia professione mi trovo a dover interagire con i fisici nucleari da Wikipedia e ho deciso di diventarlo anch'io alla fine, perché no? Quindi Wikipedia non è male, a parte gli scherzi, ovviamente bisogna essere in grado di capire cosa c'è scritto. Su Wikipedia ci sono molti dati che ci consentono di capire che cosa è successo in questa centrale nucleare. Allora, innanzitutto la collocazione geografica, che è quella che vedete lì, sulla costa orientale del Giappone, uno dei 16-17 siti nucleari del Giappone. Quindi il Giappone ha 16 o 17, a seconda dei casi, siti che contengono oltre una cinquantina di impianti nucleari. Questo vuol dire, con un'operazione che forse mi varrà addirittura premio Nobel, che in ogni sito c'è più di un impianto nucleare. Quindi notate, come si dice, la grande valentia di questa affermazione. Infatti a Fukushima ci sono sei impianti nucleari. Questi sei impianti nucleari hanno subito, ai primi di marzo, un evento dovuto a un terremoto scala Richter 9.0 più uno tsunami, che è il modo moderno per indicare quello che dalle nostre parti è il maremoto. Quindi un terremoto scala 9 più uno tsunami abbastanza importante, che ha provocato una serie di guai. Questa è una fotografia di com'è l'impianto, il sito dell'impianto, diciamo nel 2002, ben prima che succedesse l'incidente. E qui vedete alcune delle parole chiave di cui parleremo fra poco, a parte questa, che è chiarissima, ed è un esempio della chiarezza della comunicazione dei giapponesi a riguardo, no? Eccola qui. Basta leggere questo ed è tutto chiaro su cosa è successo a Fukushima. Si legge la TEPCO, ecco, qual è la TEPCO? È la compagnia elettrica privata che detiene la proprietà delle centrali nucleari. Queste centrali nucleari sono del tipo BWR. Ecco, vediamo di che tipo sono. Sono centrali, sempre ovviamente sul Sempiterno Wikipedia, possiamo guardare come sono fatte questi impianti nucleari. BWR è un acronimo che indica i reattori cosiddetti ad acqua bollente. Cosa vuol dire? È molto semplice. Considerate che qui, dove vedete la manina che scorre, ci sia come un'enorme caldaia. Questa caldaia non è però alimentata a metano, a carbone, a gas naturale o a benzina, ma è alimentata da una serie di barre di combustibile, di uranio, che grazie a reazioni nucleari emettono del calore. Allora qui abbiamo dell'acqua fredda che entra dal basso, passa attraverso questo nocciolo del reattore, si riscalda, asporta il calore, cambia di fase diventando vapore e poi esce di qua come vapore. Dopodiché va in una turbina, fa girare le palette della turbina, la turbina è collegata a un alternatore e qui è l'energia elettrica. Dopo aver lavorato in turbina, il vapore passa attraverso un altro componente chiamato condensatore, perché per la legge della termodinamica per ogni watt di energia elettrica che produciamo dobbiamo buttarne via due come energia termica e si raffredda ulteriormente quest'acqua in questo componente chiamato condensatore, tornata fredda, attraverso una pompa di alimento, teniamo d'occhio questo componente perché è importante, lo diciamo fra un attimo, rientra nel reattore e riasporta calore e così via. Questo è il normale funzionamento del nostro reattore ad acqua bollente. È il secondo tipo o filiera in gergo di reattore nucleare più comune attualmente fra quelli esistenti nel mondo. Qual è il punto che differenzia in maniera netta un reattore nucleare dalla caldaia di casa nostra? Questo, che quando noi spegniamo la caldaia, la caldaia non emette più calore. Qui invece, a causa della presenza della radioattività e dei prodotti radioattivi all'interno, se noi spegniamo un reattore nucleare, come è successo in maniera regolare dopo l'evento sismico a Fukushima, il reattore nucleare continua a produrre un pochino di energia, un pochino di potenza. Ad esempio, prendiamo il reattore nucleare di Caorso, il più grosso tra quelli che funzionavano in Italia. era da circa 800 megawatt, quindi 800 mila kilowatt, 800 milioni di watt. Questo voleva dire che durante il funzionamento, per fare quegli 800 megawatt, il reattore di Caorso produceva circa 3.200, 8, 16, 24, no, sto sbagliando, 2.400 megawatt di energia termica. Questo durante il funzionamento. Poi facciamo cadere le barre e spegniamo il reattore, il reattore a quanto va a zero? Ecco, no, il problema è che non va a zero. Va a circa 50 megawatt di quello che si chiama calore residuo, calore di decadimento, dovuto alla presenza dei materiali radioattivi al suo interno. Allora, sto calore va asportato. Sarà poco, però sono sempre 50 megawatt, che se contate può anche essere una cifra per una centrale di ripetizione e di distribuzione dell'enacqua calda, una bella cifra, insomma. Come si asporta? Molto semplice. Beh, il reattore è spento. Dobbiamo far funzionare questa pompa. Adesso sto un po' semplificando. c'è una serie di circuiti, ma dobbiamo far funzionare questa pompa per far continuare a passare l'acqua qui in mezzo, a sportare sto calore per evitare che succedano dei guai qui dentro. Ebbene, purtroppo, a causa del terremoto e dello tsunami, l'alimentazione elettrica esterna che doveva garantire il funzionamento della pompa è mancata. Tenete conto che non è che il Giappone sia stato il paese coimando l'infiore e poi questo reattore nucleare che ha fatto dei guai. C'è stato un guaio generale, 13.000 morti e un reattore, questo sei reattori nucleari che hanno avuto questi problemi. Bene, dice, non importa, con la sicurezza abbiamo quello che si chiama la ridondanza. Cioè abbiamo altri sistemi di sicurezza che possono intervenire al posto. Abbiamo dei motori diesel di emergenza che, avviati, permettono di far funzionare queste pompe. Peccato che i motori diesel di emergenza siano stati invalidati dall'onda tsunami. li hanno accesi, hanno funzionato qualche minuto e poi sono, tragicamente, anche loro si sono guastati. Allora il nostro reattore nucleare è rimasto solo. A continuare a produrre tutto questo calore, tutta questa potenza nel tempo, quindi questo calore, e cosa succedeva? Succedeva che la temperatura e la pressione dentro questo contenitore, chiamato vessel, contenitore in acciaio, salivano. Come si fa se uno ha una pentola a pressione che per qualche magia continua a produrre, con un arrosto dentro che continua a produrre energia anche da spento? Beh, una prima cosa che si fa è quella di aprire la valvola. Infatti, nelle prime settimane, nella prima settimana, proprio per alleviare la pressione all'interno del reattore e per diminuire la temperatura, si sono fatti degli emissioni controllate di vapore filtrato, debolmente radioattivo. Questo non è stato sufficiente. Il reattore ha continuato a produrre calore. si è avuta quella che, tutti dicono, che cos'è questa fusione del nocciolo? Una roba normale. Cioè, qualunque materiale, se lo si scalda sufficientemente, arriva un'apparatura per cui fonde. E la stessa cosa è successo parzialmente in alcuni dei noccioli di questi reattori. Cioè, sono parzialmente fusi. Il che dice, beh, non è bello perché, perdendo la loro integrità fisica, hanno rilasciato molta della radioattività che contenevano nell'atmosfera del contenitore. Ecco, perché questo reattore, così, questo pezzo, è tutto piazzato entro un contenitore in cemento armato che, chissà, se riusciamo a vedere in qualche fotografia... Ecco, questo è Browns Ferry, meglio non evocare questi fantasmi. Lo vediamo qui. Ecco, qui lo si può vedere. Ci sono questi edifici qui in fondo, sono questi contenitori in cemento armato che, in qualche modo, contengono l'intera struttura del nostro reattore. Lo si può vedere anche bene qui dall'alto, con la visione aerea dell'impianto di Fukushima. Quindi, la temperatura saliva, la pressione pure. Cosa si è dovuto fare per cercare di ridurre? Vedete dove è il reattore? Il reattore è sul mare. Questa è la vista dall'alto. Allora, cosa si è cercato di fare per ridurre... Eccoli qua. Per ridurre la pressione e la temperatura del reattore stesso. Si è pensato di raffreddarlo buttando acqua di mare, utilizzando l'acqua di mare, che normalmente è vietato usare, perché l'acqua di mare è sporca, corrode, ma il reattore ormai era in condizioni tali che era da buttare. Quindi non aveva senso risparmiarlo, usargli delle cortesie del genere. Quindi si è pensato di continuare, nelle settimane successive, a controllare la situazione, inondandolo di acqua di mare. Perché nel frattempo stava succedendo un'altra cosa non piacevole. Cioè, uno dei materiali di cui il reattore è fatto, cioè lo zirconio, che incamiccia il combustibile, reagiva con l'acqua ad alta temperatura, generando idrogeno. E infatti, se andate su YouTube, altra fonte di ogni sapienza, potete vedere queste esplosioni, che si sono verificate nella prima settimana o la seconda nel reattore. Cosa sono dovute? Sono esplosioni chimiche, perché non ci fa sentir meglio, ma sono esplosioni chimiche dovute alla presenza di idrogeno, che è un gas esplosivo. Allora, per mitigare questa situazione, si è provveduto a inondare il reattore di acqua di mare, presa appunto dalla costa circostante. Questa cosa è andata avanti per parecchie settimane. E questa è anche una novità. L'incidente di Chernobyl sia concluso, come vedremo fra breve, la parte, diciamo, la premiere dell'incidente di Chernobyl, la parte più importante, dopo una settimana. Trima l'Illand pure meno, che sono i due vecchi incidenti più importanti. Qui siamo andati avanti un mese. Solo dopo un mese abbiamo saputo l'entità dei rilasci radioattivi usciti da Fukushima. Su questo, tra l'altro, poi sull'entità dei rilasci, su alcuni calcoli fatti e sulla pericolosità delle radiazioni non parlo perché ve ne parlerà Sandro Sandri che tra l'altro ne sa nettamente più di me su queste cose. Comunque, dopo un mese, poi più o meno, ci hanno fatto il favore di dirci guardate, abbiamo promosso l'incidente dalla classe 5 alla classe 6 alla classe 7 anche sulle diverse classi di pericolosità. Il dottor Sandri vi racconterà qualcosa. E, in particolare, alla fine, dopo circa un mese, il nostro Fukushima ha fatto la sua bella carriera ed è arrivato nella stessa classe di Chernobyl. Quindi, quando i primi giorni ci dicevano ma questo incidente ha delle conseguenze praticamente piccole, trascurabili, infinitesime, epsilon piccoli a piacere, ho detto un po' di tutto. Io ero, ovviamente, posivittisticamente contento e quindi pensavo che andasse così. Sono rimasto un po' perplesso, vi devo dire, su questo poi magari ne discutiamo, sul fatto che un incidente classificato inizialmente 5 poi si è diventato 6 e poi si è diventato 7. Perché non si tratta di un impianto esotico, è un reattore BVR ben noto di circa 40 anni di vita, e quindi diciamo che forse si poteva sapere anche prima che cosa sarebbe potuto capitare. Quindi, rilasci radioattivi e adesso dovremo capire che cosa è successo poi di questi rilasci. Quindi questo è più o meno quello che è successo per quanto riguarda l'incidente di Fukushima. Quali sono le grosse differenze fra Fukushima e Chernobyl? Chernobyl, vi l'ho detto, è scapitato nel 1986 e i rilasci di Chernobyl alla fine sono stati valutati in circa, cioè quelli di Fukushima, in circa il 10% rispetto a quelli di Chernobyl. E la grossa differenza fra Chernobyl e Fukushima è stata che Chernobyl era un reattore, al di là della costruzione e del tipo di concezione del reattore stesso, che era piazzato in un capannone industriale e non sotto un contenitore di cemento armato. Quindi, quello che in qualche modo ha fatto sì che Fukushima sia un incidente molto grave e io, come avrete capito, non sono portato a diminuire, sminuire l'entità di questo incidente. Comunque, se fosse stato invece Fukushima, i vari reattori di Fukushima fossero stati all'interno di semplici capannoni e non sotto un contenitore di cemento armato precompresso, sicuramente le conseguenze sarebbero state molto più gravi. Tenete conto che appunto il reattore di Chernobyl si è incendiato, sempre per esplosioni di idrogeno, non dissimili da quelle avute a Fukushima, ma la dinamica dell'incidente è stata molto diversa e ha rilasciato nell'ambiente intorno a 50 milioni di curi. Qui Sandro, Sandro mi guarda male perché ho usato un'unità di misura che non si usa più da tanto tempo ma che almeno qualcuno di voi ha conosciuto. Il curi è comodo, poi lui vi racconterà la differenza fra curi, Becquerel, Sievert, eccetera. Insomma, ha lasciato un tot nacerta di iodio 131 e cesio 137. Ma l'incendio ha portato questa radioattività per buona parte nella parte alta dell'atmosfera e quindi qui ha preso una specie di treno che ha trasportato questa radioattività in una parte notevole del globo terraqueo. Qui invece a Fukushima è stato diverso, non c'è stato un incendio conclamato, il contenitore di sicurezza pur parzialmente fessurato ha tenuto e quindi i rilasci sono stati a livello più locale. Notare che questi reattori anni 70 sono come dire della cosiddetta generazione 2 poi parleremo magari nelle domande delle varie generazioni di reattori e proprio a seguito dell'incidente di Trimail Island invece nel 1979 i reattori proprio sono stati in qualche modo stimolati in un nuovo tipo di ricerca che ha portato alla generazione 3. La generazione 3 quali differenze ha grosse? la presenza del doppio contenitore di sicurezza invece che del contenitore singolo e la presenza di sistemi di sicurezza che si basano non su energia elettrica esterna o sistemi attivi ma sistemi passivi quindi forse un reattore di generazione 3 si sarebbe comportato meglio rispetto a quelli attuali anni 70 che però non sono dei Chernobyl sono dei reattori che parlando in gergo automobilistico avevano superato tutte le revisioni erano solo un po' vecchiotti ma circolavano funzionavano ben bene e quindi non si può dire ce ne sono svariate decinaia tipo Fukushima in giro per il mondo quindi non non possiamo adottare le stesse schermature psicologiche che adottavamo per quanto riguarda Fukushima prima Trimail Island non vi racconto cosa successe ma vi fu comunque una fusione del nocciolo e fortunatamente tutto restò all'interno del contenitore in cemento armato e tenete conto che questo incidente che ebbe rilasci quasi nulli fermò l'industria nucleare americana per 30 anni e di conseguenza anche l'industria nucleare mondiale ha avuto diciamo dei mancamenti perché se si sente male negli Stati Uniti nel resto del mondo non ci si sente meglio per quanto riguarda l'impiantistica nucleare quindi anche su questo magari poi possiamo ragionare se per Trimail Island ci siamo fermati così e abbiamo dovuto fare così adesso quali lezioni dovremmo attrarre da Fukushima beh una lezione è questa la natura non legge le nostre serie azioni statistiche noi avevamo detto che il reattore di Fukushima poteva sopportare il massimo terremoto credibile mi ho fatto i conti e il massimo terremoto credibile era un Richter 8,5 la natura ha detto beh ma io non so leggere le vostre statistiche vi presento subito adesso un terremoto scala 9 che tra l'altro facendo i calcoli fra 8,5 e 9 c'è 6 volte l'energia o 6 volte l'accelerazione al suolo quindi il reattore di Fukushima ha subito un terremoto con accelerazione o comunque con energia 6 volte maggiore di quella per cui era stato dimensionato allora tutto questo quali conseguenze ha avuto in Italia non posso non concludere con i 4 minuti che mi restano su sull'Italia in Italia innanzitutto ci sono stati molti che hanno detto attenzione sta per arrivare la nube radioattiva sull'Italia e a costoro io ho suggerito che una buona idea per non inalare materiale radioattivo era smettere di respirare è un modo che consente facilmente di non inalare materiale radioattivo scherzo ma tuttavia se Umberto Bossi fa la pipì all'inizio del po al pian della mussa io che sto a Comacchio mi preoccupo della qualità dell'acqua evidentemente no il fenomeno della diluzione atmosferica fa sì che certamente il corpo atmosferico sul Giappone sia prima o poi passato anche per l'Italia ma era talmente diluito da avere concentrazioni ha detto l'ARPA Piemonte intorno a centomila volte inferiori rispetto alla nube di Cernoby ovvero nulla quindi le conseguenze fisiche a parte i guai per i poveri ristoranti giapponesi anche lì ragazzi amici i ristoranti giapponesi servono pesce fresco quindi pescato qui è la tecnica giapponese ma il pesce di qui non è contaminato i miei amici che hanno i ristoranti giapponesi sono disperati continuiamo a mangiare il sushi se lo mangiavamo prima in Italia come sapete saremmo stati chiamati a votare il 12 e 13 giugno per alcuni referendum in particolare uno di questi era relativo all'abrogazione di alcune normative che riguardano la produzione di energia nucleare vi faccio vedere qui il semplicissimo testo brevissimo del referendum eccolo qui comincia qui e finisce arrivo finisce qui voilà in pratica in pratica chiedeva l'abrogazione di una serie di legislazioni che sono state varate a partire dal 2008 dall'attuale governo per il ritorno al nucleare in Italia e in particolare sono riuscito a individuare l'articolo eccolo qui del 2008 che dice che entro sei mesi dall'entrata in vigore dal presente decreto il consiglio farà una serie di cose per istituire una agenzia per la sicurezza nucleare promuovere la ricerca incrementare gli investimenti e fare quello che è stato detto prima cioè costruire quattro centrali di generazione 3 più il deposito per le scorie ecco quello che posso dirvi non posso andare molto nel dettaglio perché anche diciamo che il valore politico del referendum ha un certo peso ma se invece ci restringiamo al valore tecnico bisogna dire che obiettivamente da un lato la legislazione conteneva una serie di bacchi che facevano sì di guai insomma che facevano sì che fosse comunque di difficile implementazione anche volendo far qualcosa in Italia e poi tutto questo bel elenco della spesa che poi è stato implementato anche in altre in altre legislazioni analoghe successive è stato completamente disatteso cioè non è stato fatto nulla negli anni successivi per andare nella direzione elencata da questo da questo decreto quindi anche questo lo metto come punto eventuale per domande sapete come è andata giusto ieri dopo la moratoria di un anno stabilita appena dopo beh questo però lasciatemelo dire il giorno dopo l'incidente il ministro dell'ambiente ha detto andiamo avanti allo stesso modo tre giorni dopo parlando con Tremonti ha detto mica ci possiamo giocare le elezioni per sto nucleare questo va detto obiettivamente scusate ecco quindi la serietà e a questi livelli successivamente si è deciso una moratoria di un anno dopodiché adesso nel all'interno di una serie di provvedimenti è stata praticamente decisa la non implementazione di quelle che sono state le cose comunque già non implementate dalla non legge che è stata promulgata qualche anno fa il risultato è che la possibilità di fare o non fare il referendum è in bilico e deciderà la Cassazione questi sono i risultati di oggi quindi verrà consultata la Cassazione per capire se questo provvedimento del governo soddisfa in tutto o in parte la mozione del referendum io spero di avervi dato un quadro avervi portato un po' per mano velocemente ahimè su quello che è successo in Giappone in Russia e negli Stati Uniti e in Italia scusate se ogni tanto scherzo e aggiungo delle battute ma anche per sdrammatizzare un po' questa situazione che obiettivamente è abbastanza seria vi ringrazio per l'attenzione sono poi disponibile per le domande grazie a Massimo Zucchetti che ci ha promesso di non fare oggi la scelta di rasetti quindi ci ha dato modo di essere qui e di ascoltarlo prima del suo ritiro nell'entomologia adesso passerei la parola subito a Sandro Sandri posso prendermi un secondo anch'io ho stampato gli articoli dei quotidiani perché i giornalisti in effetti vanno su Wikipedia relativi a tutto questo complesso iter che Massimo Zucchetti ha riassunto adesso insomma questo complesso iter che ci avrebbe dovuto portare verso un referendum e poi verso una politica nucleare che avevamo pensato di aver abbandonato da 25 anni all'epoca l'anno due anni fa il ministro Romani quello che oggi ha bloccato le decisioni sul nucleare aveva parlato di maturazione del nostro paese rispetto a posizioni precedenti aveva parlato di disponibilità da parte degli enti locali quindi anche dei cittadini ad accogliere le centrali nucleari intanto c'erano Enel che diceva giornata storica e Emma Marcegaglia che diceva un'opzione importante oggi se stiamo rivedendo queste affermazioni e anche per tutto quello che Zucchetti ci ha raccontato e per quello che Sandri adesso ci racconterà buonasera a tutti grazie ringrazio anche io per essere stato invitato in questa occasione a parlarvi un po' di quelli che sono in particolare gli effetti delle radiazioni ionizzanti io come vedete io come vedete faccio un po' di pubblicità all'associazione che rappresento l'associazione italiana di radioprotezione ma lo faccio perché se voi andate sul nostro sito ariptrattoasso.it trovate molte informazioni relative appunto agli effetti e alle radiazioni ionizzanti e anche quelle non ionizzanti che vi farò vedere rappresentano una buona parte delle radiazioni che noi incontriamo anche nella vita di tutti i giorni che sicuramente conoscete molto bene per esempio le onde radio ne sono un esempio la luce visibile è un altro esempio di radiazioni non ionizzanti vi faccio solo vedere la nostra associazione l'AIRP è stata fondata sin dal 1958 abbiamo più di 50 anni non solo l'AIRP ahimè e come vedete è l'associazione che si occupa di questi aspetti più datata in Italia dall'AIRP poi sono nate altre associazioni professionali di persone che si dedicano appunto a questi studi a queste ricerche e all'applicazione pratica della radioprotezione cioè di quella disciplina che studia le modalità per proteggere le persone dall'esposizione e da radiazioni in particolare anche alle radiazioni ionizzanti che sono quelle di cui vi ha parlato il professor Zucchetti poc'anzi che diciamo determinano il rischio poi in seguito a un incidente tipo quello di Fukushima Chernobyl o Three Mile Island come avete sentito noi chiaramente ci siamo impegnati come associazioni italiane di radioprotezione anche sul nucleare visto che c'era questa intenzione in Italia di riprendere a sviluppare il nucleare di potenza per uso pacifico chiaramente e cosa che invece avete sentito adesso sembrerebbe un pochettino rientrata io se posso fare un commento su questo direi che bisognerebbe sempre evitare come peraltro è stato anche detto in questo periodo di agire sull'onda dell'emozione ma bisognerebbe fin dall'inizio essere in grado di valutare se si è sufficientemente a posto nell'andare a realizzare degli impianti tecnologicamente così avanzati e complessi dal punto di vista della sicurezza quindi non si dovrebbe arrivare a vedere che in effetti possono succedere degli incidenti per decidere di non fare questi impianti ma piuttosto se ci sono delle incertezze bisognerebbe essere in grado di deciderlo prima e secondo me ci sono queste capacità anche in Italia capacità tecniche di poter dire il professor Zucchetti ne è un validissimo esempio di poter dire quali sono le tecnologie nucleari che possono offrire un grado di sicurezza e qual è questo grado di sicurezza io cercherò in particolare di farvi vedere perché la radioattività è pericolosa voi avete tutti noi abbiamo paura della radioattività perché in effetti fa del male senza che noi siamo in grado di vedere da dove questo male arriva cioè è uno di quegli agenti di quelle sostanze di quelle entità nocive che noi non riusciamo a vedere a priori se non le misuriamo in qualche modo non le vediamo però ci danneggiano ci fanno del male quindi cercherò di farvi vedere com'è che ci fanno del male quali sono queste radiazioni le sostanze che le possono emettere come possono essere emesse vedremo che appunto in questi incidenti c'è la possibilità che vengano emesse delle radiazioni e delle sostanze radioattive e poi piano piano vi cercherò di darvi un pochettino gli elementi per poter valutare qual è il rischio di esposizione della radiazione quando uno sente questi numeretti questi questi simboli queste unità di misura i sievert non si è parlato quasi mai di gray ma anche quelle sono delle unità di misura che danno un'indicazione del rischio di esposizione delle radiazioni ma soprattutto i sievert con i sottomultipli che avete sentito millisievert microsievert che vuol dire un millesimo del sievert oppure un milionesimo del sievert sono effettivamente delle unità di misura di grandezze che ci devono dare un'idea di quello che è l'effetto sul corpo proprio di queste radiazioni ecco vedete qua come vi dicevo prima ho messo in evidenza il fatto che le radiazioni elettromagnetiche sono di diversa natura in particolare immaginate che quelle che le radiazioni elettromagnetiche trasportano un'energia quelle che trasportano un'energia più bassa sono quelle che vedete dove c'è diciamo il traliccio dell'alta tensione e quelle invece che trasportano l'energia più elevata man mano che andate dalla parte opposta vedete sono quelle appunto definite come ionizzanti cosa vuol dire radiazioni ionizzanti perché ionizzanti perché effettivamente ionizzano cioè tendono a trasformare un atomo neutro in ione cioè in atomo che ha una carica elettrica diversa da zero cioè quindi ha una carica elettrica di qualche entità come fanno a fare questo beh detto in parole povere sono in grado di rimuovere un elettrone da un atomo e quindi siccome l'elettrone in particolare ha una carica negativa far sì che l'atomo si trovi sbilanciato dal punto di vista della carica e in questo caso in particolare acquisisca una o più cariche positive quindi questo è l'effetto attraverso il quale noi abbiamo poi denominato queste radiazioni come ionizzanti ma questo cosa vuol dire ai fini del danno che possono fare al nostro corpo ai nostri tessuti alle nostre cellule al nostro DNA alla fine che poi è il costituente come sappiamo tutti quanti fondamentale della vita e delle cellule beh possono DNA una molecola una macromolecola una molecola molto grande credo di non sbagliare la più grande che conosciamo e se viene però interessata da le azioni delle radiazioni ionizzanti questa molecola può subire dei danni dei danni più o meno gravi danni che in alcuni casi possono essere riparati dall'organismo e danni che in altri casi invece possono essere non riparati o riparati male e vedremo tra brevissimo cosa vuol dire riparati male e cosa provoca una cattiva riparazione all'interno delle nostre molecole qua c'è un altro richiamo a quelle che sono le tipologie di radiazioni ionizzanti questo è un richiamo abbastanza interessante come vedrete tra poco perché vi fa notare che tra le radiazioni ionizzanti quelle non ionizzanti per adesso non guardatele insomma non saranno argomento della chiacchierata mia di questa sera quelle ionizzanti le possiamo dividere in radiazioni puramente elettromagnetiche in realtà parliamo globalmente di radiazioni elettromagnetiche ma puramente elettromagnetiche prive di massa nel senso che possono essere rappresentate bene da un modello fisico che è il fotone che è una particella che ha una massa nulla mentre invece ne abbiamo delle altre che riusciamo a rappresentare a capire come si comportano attraverso dei modelli fisici che si concretizzano in piccoli corpuscoli che sono gli elettroni i protoni o degli aggregati di queste particelle i neutroni tra gli altri oppure degli insiemi come vedete qua questa particella D che è un deutone che vedremo poi è il nucleo di un atomo che tra l'altro si trova anche in natura il deuterio un isotopo dell'idrogeno vi anticipo questa cosa e poi le particelle alfa per esempio che sono un aggregato più grosso le sorgenti che producono queste radiazioni sono di vario tipo molte sono artificiali cioè realizzate dall'uomo come succede appunto nel caso delle centrali nucleari e in particolare noi veniamo interessati da queste radiazioni quando c'è un incidente quando non ci sono incidenti una centrale nucleare non emette praticamente sostanze radioattive in entità tale da essere in qualche modo dannose per la salute dell'uomo anzi emette delle rilascia delle sostanze in quantità molto bassa praticamente trascurabili vi farò vedere qualcosa di questo genere più avanti però ci sono anche molte sorgenti radioattive di origine di tipo naturale che troviamo nell'ambiente in cui viviamo anche di questo vi parlerò ecco vedete gli isotopi sono praticamente quell'insieme di atomi che possono rappresentare un elemento per fare per fissare l'idea pensiamo all'idrogeno che è l'elemento più semplice che abbiamo in natura che nel suo nucleo c'è solo un protone e immaginate un elettroncino che gli gira intorno anche se questo è un modello comunque che rappresenta bene quello che succede a livello atomico appunto l'idrogeno può però anche trovarsi in natura in altre forme non con più elettroni perché sennò ho più protoni all'interno del nucleo sennò diventerebbe un elemento diverso ma può trovarsi con all'interno del nucleo un numero diverso di neutroni ovvero laddove prima non c'aveva neanche un neutrone nel nucleo possiamo trovarlo anche con un neutrone nel nucleo o due neutroni nel nucleo l'idrogeno che ha due neutroni e un protone nel nucleo viene chiamato trizio ed è una sostanza radioattiva è un idrogeno radioattivo che si trova anche in natura ma essenzialmente è di origine artificiale cioè prodotto in seguito all'attività dell'uomo alle cose che l'uomo ha fatto e fa qua c'è un elenco delle principali emissioni che possiamo avere da una sostanza radioattiva vi dico velocemente senza spiegarvi nel dettaglio queste formulette relazioni che non sono così rilevanti ai fini di quello che vi voglio dire poi nel seguito queste emettono radiazioni tipo beta che sono essenzialmente elettroni possono essere beta più o beta meno i beta più sono gli elettroni positivi che costituiscono un elemento di antimateria può darvi l'idea un po' di quanto possa essere mistica anche anche la fisica alle volte antimateria che sopravvive pochissimo nel nostro ambiente e scompare appena è stata creata però effettivamente sappiamo che alcune sostanze radioattive emettono questi elettroni positivi e poi particelle alfa di cui vi dicevo radiazioni X e gamma soprattutto gamma in questo caso che vedete che sono radiazioni puramente elettromagnetiche le sostanze radioattive hanno questa caratteristica che nel tempo perdono la loro radioattività fortunatamente in effetti però bisogna vedere ci sono alcune sostanze radioattive che la perdono molto velocemente altre sostanze radioattive che la perdono invece con tempi molto lunghi per avere un'idea di qual è il tempo che ci mettono per perdere la radioattività è stato introdotto un parametro che è il tempo di dimezzamento cioè il tempo nel quale queste sostanze dimezzano la loro radioattività quindi quando avete sentito in questi giorni parlare dello iodio 131 per esempio e avete sentito dire che vabbè ma tanto lo iodio 131 sparisce in 8 giorni non è che lo iodio 131 sparisca in 8 giorni ha questo tempo di dimezzamento caratteristico che sono circa 8 giorni e che vuol dire che in 8 giorni la massa di iodio 131 che io ho di davanti ha dimezza la sua radioattività non che non la nulla del tutto la dimezza solamente lo stesso dicasi per esempio per il cesio 137 del quale anche si è sentito parlare perché sono i due elementi principali emessi nel caso di questi incidenti il cesio 137 per esempio ha un tempo di dimezzamento molto più lungo 30 anni ma anche in questo caso nei 30 anni che trascorrono da quando ho cominciato a guardare questa massa di cesio 137 io ho solo il dimezzamento della radioattività non l'annullamento totale quindi queste cose è bene ricordarle per esempio il cesio 137 ce lo ritroviamo ancora in Italia derivante dall'evento di Cernobil quindi perché sono 30 anni di tempo di dimezzamento ci sono altre dinamiche ambientali poi che fanno sì che queste sostanze diffondano si muovano non rimangano ferme come potete immaginare nel punto in cui sono cadute al momento del rilascio però comunque con un tempo di dimezzamento così elevato in effetti noi misuriamo ancora del cesio 137 di Cernobil ecco qua adesso velocemente vi do solo un'idea di quello che fanno queste radiazioni le particelle alfa che poi sono quelle emesse dall'uranio in particolare hanno la caratteristica di penetrare molto poco nei materiali nei tessuti difatti si fermano nello stato morto della nostra pelle noi possiamo tenere dell'uranio in mano e non subirne nessuna conseguenza viceversa se abbiamo a che fare con delle particelle beta degli elettroni beh già questi sono in grado di attraversare parlo in termini generali poi dipende dall'energia di queste radiazioni ed altri parametri però in termini generali si può sostenere che le particelle beta hanno un potere di penetrazione maggiore delle particelle alfa e quelle che hanno però in questo quadro i maggiori poteri di penetrazione sono le radiazioni puramente elettromagnetiche che vi facevo vedere all'inizio denominate X e gamma queste possono attraversare grandi distanze e attraversare anche materiali molto densi molto spessi molto molto consistenti e attraversano il nostro corpo molto tranquillamente vedremo che questa è una caratteristica importante per capire l'effetto che ci possono fare queste radiazioni qua vedete quello che già avete visto nel filmato iniziale cioè cosa avviene quando si ha la fissione nucleare praticamente il nucleo di uranio avete visto meglio che in questa figura nel filmato viene scisso in altri nuclei radioattivi a loro volta perché anche l'uranio è radioattivo come vi dicevo emette particelle alfa altri nuclei radioattivi e vengono emessi anche dei neutroni che determinano poi questa catena di reazione essendo assorbiti da altri nuclei di uranio e proseguendo diciamo moltiplicando questo effetto di fissione dell'uranio c'è anche un altro processo nucleare del quale sia io che il professor Zucchetti ci occupiamo ogni tanto che è quello della fusione nucleare è un processo diverso un processo sul quale si sta ancora studiando a dire il vero per riuscire poi a realizzare degli impianti nucleari che dovrebbero avere avrebbero sicuramente delle caratteristiche di sicurezza migliori degli impianti che si basano invece sulla fissione nucleare e abbiamo la relatività naturale la relatività naturale come vi dicevo all'inizio ce la ritroviamo in varie situazioni in vari casi che deriva sia dalle radiazioni cosmiche che ci arrivano soprattutto dal sole ma anche dalle stelle soprattutto dal sole che è la stella che abbiamo più vicina e poi queste radiazioni sono anche in grado di produrre attivazioni cioè rendere radioattivi dei materiali che si trovano sulla crosta terrestre che normalmente non lo sono e quindi producono questi radioisotopi cosmogenici il trizio per esempio vi dicevo si trova anche in qualche quantità di tipo come trizio naturale essenzialmente prodotto questo H3 che vedete per primo è appunto il trizio che è prodotto dalla interazione dall'urto dei raggi cosmici con la crosta terrestre con i materiali della nostra terra e altri come vedete ce ne sono che vengono prodotti nello stesso modo poi ci sono dei radioisotopi delle sostanze radioattive che noi ci ritroviamo nella crosta terrestre perché c'erano da quando la terra si è formata e hanno queste sostanze dei tempi di dimezzamento l'uranio che vedete in due isotopi qua 238 235 il Torio 232 hanno dei tempi di dimezzamento di migliaia e migliaia di anni e quindi sono in grado di mantenere la loro radioattività dalla formazione della terra fino ai giorni nostri e questi producono a loro volta nel loro decadimento altre sostanze radioattive tra le quali per esempio nella catena dell'uranio 238 è bene ricordare il Radon che è forse anzi sicuramente una delle sostanze naturali che provoca gli effetti più gravi per la salute nelle persone a causa proprio di radiazioni ionizzanti perché nella realtà poi vi farò vedere questa è la componente radioattiva che ci dà la dose maggiore proprio considerando tutte le sorgenti che possiamo andare a appunto a considerare sia quelle artificiali che quelle naturali il Radon è sicuramente quello che ci dà le dosi più importanti e che dà delle conseguenze che sono effettivamente molto ben note all'OMS l'Organizzazione Mondiale per la Sanità in Italia l'Istituto Superiore di Sanità che stanno approfondendo questa tematica per cercare di ridurre il rischio in particolare di tumore ai polmoni dovuto proprio a questo tipo di agente nocivo il potassio 40 ecco giusto per darvi un'altra notiziola diciamo così il potassio 40 in realtà mi piace sottolineare che è una sostanza radioattiva che abbiamo tutti quanti all'interno del nostro corpo cioè una sostanza radioattiva che è presente in quantità non trascurabili nel corpo di ciascuno di noi ed ha delle emissioni radioattive anche abbastanza importanti non ci dà delle dosi importanti però è comunque un'informazione da tenere presente l'altro giorno era un altro un altro seminario c'era un collega che aveva al polso un orologio che aveva anche un rivelatore di radiazioni e faceva notare come come fosse elevato il livello di radiazioni in quella stanza e ha detto perché non ti togli un attimo quell'orologio e lo appoggi su un tavolo e lui in effetti ha fatto questa operazione e la radioattività di colpo si è abbassata lui si è spaventato pensando dove mi sono contaminato non ti sei contaminato però noi abbiamo una radioattività all'interno del nostro corpo che è più elevata di quella che puoi trovare in un ambiente chiuso magari all'aperto le radiazioni cosmiche danno un contributo non trascurabile però in un ambiente chiuso puoi effettivamente andare a registrare una radioattività maggiore attaccato al tuo corpo di quella che trovi parliamo sempre di livelli di radioattività molto bassi cosiddetti livelli di fondo ecco entriamo nel vivo di come si fa a capire quanto ci fanno male le radiazioni poi vorrei avere un pochino di tempo cercherò di andare in fretta per avere un po' di tempo anche per dirvi alcune cose in particolare sulle quali mi ha chiesto di intervenire anche il professor Zucchetti però questo è un aspetto importante questo è un aspetto importante che energie uguali impartite da tipi differenti di radiazioni producono danni biologici differenti come facciamo a capire questo beh in effetti ci sono radiazioni come vi ho fatto vedere prima più o meno penetranti radiazioni che danno un danno locale importante perché penetrano molto radiazioni che hanno un percorso invece di rilievo e quindi danno un danno locale più limitato di fatto noi dobbiamo essere in grado di tirare fuori una grandezza un numero il famoso sievert millisievert microsievert che ci dica quanto male ci ha fatto qualunque sia stata la radiazione che ci ha interessato il nostro corpo per fare questo i radioprotezionisti hanno studiato delle grandezze che tengono conto dei diversi tipi di radiazione e dei diversi tipi di organo e tessuto che sono stati interessati a queste esposizioni qua vedete proprio un percorso che parte dalla energia rilasciata negli organi e tessuti e arriva in fondo a questa dose efficace che è espressa in sievert ed è proprio la grandezza della quale avete sentito più volte parlare quando si parlava di millisievert di microsievert eccetera che è appunto la grandezza che ci dice quanto male ci può fare una radiazione ecco perché le radiazioni fanno questo tipo di danni dei danni somatici essenzialmente somatici i danni genetici a dire la verità nell'uomo non sono ancora stati dimostrati come danni provocati dalle radiazioni ionizzanti sono stati dimostrati su cavie da laboratorio su animali ma sull'uomo non siamo stati ancora in grado di dire che effetti di deformazione genetica o cose di questo genere fossero si potesse risalire a un agente radioattivo non siamo ancora stati in grado di dirlo e quindi questo va detto ci registriamo il fatto che effettivamente in laboratorio questo avviene ma bisogna anche dire che sull'uomo non abbiamo questa evidenza mentre invece i danni somatici sono evidenti anche sull'uomo e sono di due tipi o stocastici cioè possono verificarsi oppure possono non verificarsi con la stessa esposizione delle radiazioni di due individui diversi uno si ammala e l'altro non gli succede niente e campa fino a 80 anni forse Rasetti era stato confermi però è stato più fortunato più di 100 più di 100 scusa però nella norma diciamo che gli 80 anni sono quelli che noi speriamo di riuscire a vederci riconosciuti di diritto in quanto vita media insomma o comunque tornando a noi ci sono anche degli effetti deterministici cioè ci sono degli effetti che effettivamente si verificano quando io subisco un'esposizione di un certo tipo alle radiazioni e questi sono effetti come vedete tipo delle radiodermiti dei danni all'occhio e quindi cataratte ovvero delle sindrome molto gravi quando le dosi di radiazione superano in particolare il sievert alcuni sievert allora in quel caso la morte è molto probabile diventa molto probabile e comunque le patologie che la persona alle quali la persona va incontro sono molto gravi viceversa al di sotto di 500 millisievert questi effetti deterministici non si vedono praticamente non si vedono in qualche soggetto più sensibile oppure in qualche situazione particolare si può vedere qualcosa qualche piccolo danno qualche ritema in seguito all'esposizione alle radiazioni anche a dosi inferiori ai 500 millisievert ma è una situazione molto molto limitata statisticamente mentre invece gli effetti stocatici che si possono verificare casualmente si vedono soprattutto però si è in grado di dire che si verificano quando la dose è superiore ai 100 millisievert ecco questi numeri magari ricordatevi che adesso vediamo quest'altra trasparenza che io ho scaricato da internet ma collegandosi a internet si può vedere in questi giorni si trova in tutti i rapporti che vengono trasmessi dal dal MEXT che sarebbe il ministero dell'energia praticamente o dell'ambiente se non sbaglio giapponese ed è una trasparenza che poi io ho tradotto anche in italiano qua che ci dice appunto quali sono le dosi da radiazioni alle quali noi andiamo incontro nella vita di tutti i giorni vedete in particolare che abbiamo i 2400 micro sivert all'anno dove c'è quella tennista quella figurina che rappresenta una tennista che appunto è la dose media una media molto grossolana in questo caso cioè i 2,4 millisievert all'anno di cui avrete sentito parlare in questi giorni che è la dose media che interessa ciascuno di noi in quanto esposto a radiazioni naturali dell'ambiente nel quale si trova e poi ci sono una serie di altre esposizioni vedete dovute invece a situazioni particolari esposizioni mediche per esempio quando andiamo a sottoporci a degli esami RX effettivamente vedete abbiamo un 50 microsievert di dose ogni volta che facciamo una di queste indagini possiamo arrivare anche al millisievert quando facciamo una tac in alcuni casi e possiamo anche superarlo 6 e più millisievert quando questa tac interessa parti del corpo più estese e così via insomma noi siamo effettivamente esposti a radiazioni per un'entità tutto sommato non trascurabile e addirittura in alcune parti del mondo vedete 10 millisievert i brasiliani sulla costa a sud di Vittoria in Brasile un po' più a nord di Rio de Janeiro hanno in effetti delle sabbie zirconifere che danno delle dosi molto elevate la gente va lì per fare i bagni di sabbia calda e si prende un po' di dosi di radiazioni sono 10 millisievert all'anno ecco vi faccio vedere quest'altra trasparenza in cui abbiamo invece il quadro riportato in un modo un po' più sintetico e diverso appunto di quelle che sono le dosi medie nei paesi sviluppati vedete che un grosso contributo è quello dovuto al radon il contributo più importante come vi dicevo prima che contribuisce qua c'è una delle solite medie come le medie dei polli che hanno un po' lasciano un po' il tempo che trovano perché in realtà questo 1,2 millisievert all'anno che è riportato qua è molto variabile per esempio nell'Alto Lazio ma anche nel Friuli abbastanza vicino a voi ci sono delle esposizioni al radon molto più importanti ecco esposizione al radon è un'esposizione interna perché il radon viene respirato l'esposizione esterna invece quando io ho la sorgente al di fuori del corpo in questo caso di incidenti nucleari in questi casi di incidenti nucleari ricorrono un po' tutte e due le situazioni ma soprattutto quella relativa all'esposizione interna perché è quella che è conseguente all'alimentazione al fatto che noi ci alimentiamo con sostanze che possono scusate civiche che possono essere contaminati appunto in seguito a questi eventi ovvero respiriamo un'aria un'atmosfera che contiene delle particelle di radioattività non mi soffermono su queste cose qua perché poi sono nozioni di carattere più generale che poco si applicano magari a questi eventi però in effetti la distanza è molto efficace la distanza dalla sorgente di radiazioni è molto efficace nel ridurre la dose alla quale una persona è esposta c'è questa regoletta dell'inverso del quadrato della distanza che fa sì che si abbassi piuttosto velocemente la dose come si misurano le radiazioni qua vedete alcuni strumenti di misura chiaramente le modalità di misura sono molto complesse non ho il tempo per entrare nel dettaglio di questo ma ci sono diversi tipi di strumenti di varie dimensioni è un aspetto importante e tener conto del fatto che ogni tipo di radiazione quasi ogni tipo di radiazione richiede uno strumento particolare quindi questo tenetelo presente perché non basta alle volte si vede qualcuno che va in un ambiente fa una misura con uno strumento e dice qua non c'è radioattività nella realtà bisognerebbe fare un controllo molto più approfondito su come si diffonde in ambiente la radioattività avete già sentito altre cose comunque tenete conto che da un incidente da un rilascio qualsiasi abbiamo la dispersione in atmosfera la ricaduta al suolo e quindi poi l'interessamento è dei foraggi dei quali si alimentano gli animali appunto che si cibano di vegetali e poi la catena alimentare nostra che sono i vegetali dei quali noi ci nutriamo avete ricordate i vegetali a foglia larga che sono i primi che vengono diciamo interessati in seguito a questi eventi dalle ordinanze nazionali e poi comunque anche anche la carne che deriva appunto che può essere contaminata in seguito all'alimentazione degli animali diffusione sul terreno è un caso particolare che vi volevo far vedere ma non è non è rilevante nel terreno la radioattività si muove molto lentamente mentre nell'atmosfera si muove velocemente nel terreno si muove molto lentamente ecco su questo fatto che nell'atmosfera si muove con una certa velocità alcuni colleghi in particolare dell'Enea che si occupano proprio di dinamiche atmosferiche sarebbero arrivati alla conclusione che i giapponesi non sono stati correttissimi nel comunicarci i dati di rilascio perché andando a misurare quello che è arrivato in Europa i tempi con i quali queste quantità sono arrivate in Europa sembrerebbe ma sono valutazioni difficili da fare effettivamente perché i dati che abbiamo sono interessati da un'incertezza molto elevata però sembrerebbe che in realtà si sarebbe arrivati alla conclusione che piuttosto che il 10% delle emissioni di Chernobyl si ha a che fare con un 50-60 forse anche 75% di quelle emissioni quindi quindi siamo l'avevi anche tu sentito e questa è una mappa che vi fa vedere comunque invece come i giapponesi sono stati molto bravi e pronti a mettere in funzione le loro reti di monitoraggio le abbiamo anche in Italia molto efficienti non per incensarci ma devo rilevarlo insomma però i giapponesi in effetti vedete hanno una rete puntuale intorno in particolare a Fukushima ma non solo anche in molti altri punti e qua vedete anche cosa che si può trovare su internet anche i dati di misura che loro hanno pubblicato dopo i primi due o tre giorni qua c'è un'altra di queste mappe con distanze maggiori ecco qua giusto qualche considerazione poi io mi fermerei qua magari vi faccio poi vedere qualcosa sulla scala Ines che non avevo di fatto preparato una trasparenza però sul sito dell'IAEA c'è a sinistra se tu guardi non se lo sai insomma c'è proprio una un'informativa su come si esamina la scala Ines perché se vogliamo confrontare con Chernobyl più che altro gli effetti perché questo è il mio compito insomma di farvi un pochettino capire quali sono gli effetti che possono derivare da questo tipo di incidenti ecco mentre a Fukushima subito non è morto nessuno a causa dell'incidente nucleare sono morti ahimè in molti a causa dell'evento che ha provocato anche l'incidente nucleare invece a Chernobyl alcune persone sono morte proprio in seguito all'incidente lì è stato esclusivamente un incidente di tipo nucleare ma proprio per l'irraggiamento non solo per le esplosioni chimiche anche per l'irraggiamento qualcuno è morto per cause deterministiche come vi facevo vedere prima cioè per gli effetti delle radiazioni e poi una serie di persone come vedete in particolare questi liquidatori che erano coloro che dovevano andare sopra il tetto della centrale di Chernobyl a buttare materiale cementizio e anche un po' di grafite che era uscita fuori molta di questa si è incendiata un'altra causa dell'evento di Chernobyl è stata la grande quantità di grafite che c'era all'interno del reattore che appunto si è incendiata e ha fatto sì che questa radioattività si espandesse all'esterno questi hanno ricevuto più di 100 millisievert anche molto di più di 100 millisievert e quindi incorreranno possono incorrere in danni di tipo stocastico in tumori una cosa importante da notare che in effetti io mi sento di dover sottolineare che la tecnologia nucleare di Chernobyl era molto diversa da quella di Fukushima o Chernobyl insomma adesso io lo pronuncio un po' in un modo un po' nell'altro non so qual è quello più preciso insomma comunque a Fukushima le centrali che sono state coinvolte da questo da questo tsunami terremoto prima e poi tsunami in realtà hanno tenuto hanno tenuto abbastanza bene nel senso che mentre mentre Chernobyl come aveva ben spiegato il professor Zucchetti era all'interno di un capannone industriale ha rilasciato tutto subito Fukushima invece a Fukushima invece il rilascio è stato più graduale più lento e questo cosa ha consentito di fare ai fini pratici cioè per quelli che sono gli effetti sulle persone ha consentito di far allontanare nel tempo nel quale il rilascio è stato ritardato allontanare le persone prima a 20 e poi a 30 km dal sito di Fukushima questo ha ridotto di molto le dosi alle quali le persone sono state esposte per cui se andiamo ecco magari se possiamo ripassare sul computer collegato ad internet adesso ecco vediamo che questa è la scala INES della quale tanto si parla qua rappresentata in forma grafica che ci può far capire effettivamente come è stata pensata vedete ci sono sette livelli in tutto sette livelli che diciamo sono stati graduati anche così in seguito all'evento di Cernobil e i primi livelli i primi tre livelli sono relativi a incidenti che per l'inglese incident vuol dire situazioni non di vero incidente ma di malfunzionamento eventi anomali situazioni che non sono veramente incidentali quindi di gravità minore e poi ci sono altri quattro altri quattro livelli che invece corrispondono a dei veri propri incidenti dal nostro punto di vista che vengono chiamati accidenti in inglese e come vedete c'è il massimo di questi livelli che è il settimo allora molti stanno dicendo che benché sia vero quello che vi dicevo prima benché ammettiamo che possa essere vero che il rilascio di Fukushima sia un 75% di quello di Cernobile quindi siamo là però in effetti se questa scala INES ci deve dare un'indicazione di quanto danno deriva dall'incidente nucleare alle persone beh in questo caso una certa differenziazione tra Cernobile e Fukushima ci deve essere perché come vi dicevo a Fukushima il danno alle persone al di là del fatto che l'incidente come quantità di materiale radioattivo rilasciato possa essere paragonabile simile o uguale a quello di Cernobile il danno alle persone è stato di gran lunga inferiore grazie anche alla tecnologia nucleare anzi grazie sicuramente alla tecnologia nucleare diversa che era applicata in quegli impianti ecco io avrei finito qui e vi ringrazio per avermi seguito grazie a tutti grazie a tutti